Con noi c'è il candidato del Movimento 5 Stelle a sindaco, l'avvocato Virginia Raggi che saluto, buongiorno e ben trovata, anche Nino Santarelli della redazione che è con noi, buongiorno Nino. Buongiorno direttore. Allora iniziamo subito parlando, la prima cosa importante da fare nella città di Roma, adesso non possiamo parlare il tempo è poco di tutto il programma, ma la prima cosa che necessita la città di Roma qual è? I romani ci chiedono di intervenire con forza sui trasporti, trasporti significa ridare fiato finalmente al trasporto pubblico, investire risorse sui mezzi pubblici, cercare di farli muovere il più rapidamente possibile, allo stesso tempo noi vogliamo creare una rete di piste ciclabili affinché chi vuole muoversi con la bicicletta non sia minacciato dalle auto e vogliamo rilanciare ovviamente il trasporto su ferro e poi dobbiamo andare a incidere su un altro aspetto che fa parte della mobilità che riguarda la logistica. A Roma circa 100.000 operazioni di carico e scarico merci avvengono ogni giorno creando ingorghi, traffico, doppia fila, quindi dobbiamo razionalizzare tutto questo aspetto affinché non creino ulteriore difficoltà tanto per le auto private che nel tempo noi vogliamo disincentivare quanto soprattutto per la mobilità pubblica, quindi dobbiamo agire, scusate, su questi due sintomi, da parlare ce ne sarebbe per ore. Raggi, un altro dei temi all'ordine del giorno è quello delle buche, le strade di Roma sono diventate delle groviere, c'è la possibilità di sistemarle, di creare un sistema virtuoso da questo punto di vista? Assolutamente sì, si tratta di controllare gli appalti, quello che ci ha dimostrato un'inchiesta di dicembre è che anche sulle buche giravano mazzette affinché i costruttori pagavano, i costruttori, le ditte in realtà pagavano i funzionari del Comune di Roma per non controllare l'esecuzione dei lavori e quindi utilizzavano asfalto più scadente, materiali diciamo di qualità più bassa, evitavano di creare uno strato di asfalto di spessore sufficiente in modo che poi alle prime piogge si riapriva tutto e loro potevano essere richiamati e quindi effettuare un nuovo intervento. Quindi si tratta in realtà di controllare gli appalti, verificare la legalità, la regolarità e il rispetto delle norme che ci sono, vanno fatte rispettare, attenzione non è che noi non abbiamo norme, ci sono ma devono essere rispettate e poi soprattutto si tratta di iniziare a fare controlli sulla corretta regolarità dei lavori. L'affittopoli e i affitti da 5 euro, 10 euro, 15 euro e il patrimonio immobiliare, la cifra non si sa, 20, 30 mila, 40 mila immobili? 80 mila, 100 mila, chi lo può sapere? E in tutto questo ci sono anche degli immobili fantasma, cioè immobili che non vengono censiti come immobili di Roma, non vengono censiti come immobili dello Stato, non vengono censiti come immobili del Comune, come immobili dei privati, però qualcuno c'è dentro e forse un tempo appartenevano a Roma. Quindi abbiamo una situazione che è devastata e sulla quale metteremo assolutamente le mani, lo chiediamo da tempo il censimento e poi sicuramente tutti questi canoni bassissimi, 3-4 euro, dovranno essere riaggiornati. Dobbiamo allontanare da questi immobili tutti coloro che hanno dei redditi elevatissimi. Ricordiamo c'è il caso emblematico dei 100 metri quadri a Fontana di Trevi che vengono pagati da circa 300 euro al mese da una coppia che ha 90 mila euro di reddito. Quindi insomma, pulizia da fare ce n'è. L'avvocato guadagna 700 mila euro e paga 200 euro d'affitto. I casi sono tanti. I romani invece pagano le tasse più alte d'Italia. Saremo costritti a pagarle per quanto tempo? C'è la possibilità con una gestione virtuosa del Comune di ridurre questo peso fiscale che grava su tutti noi cittadini di Roma? L'origine di questa tassazione più alta deriva dal fatto che per anni purtroppo la gestione è stata dissennata. Per cui quando è stata aperta la gestione commissariale, quindi il famoso debito di Roma, tutti i romani hanno dovuto pagare un'aliquota IRPEF più alta di tutti gli altri. Quindi hanno aggiunto l'ulteriore 0,4 che corrisponde a 200 milioni di euro annui che noi paghiamo alla gestione commissariale per rientrare del famoso debito. Insieme a questo poi paghiamo pro quota anche i 300 milioni di euro annui che pagano tutti i cittadini italiani e quindi di fatto lì noi non possiamo agire. E anzi permettetemi di dire che chi in campagna elettorale dice una bestialità del genere sa benissimo, non solo che è una promessa elettorale, ma sa benissimo che qualunque misura, qualunque tassa venga abbassata adesso senza mettere le mani e guardare i conti sarà poi reintrodotta in un secondo momento. Come è stata l'abolizione dell'ICI che ha determinato l'introduzione dell'IMU. Adesso se volessero dire aboliamo l'IMU poi ne introdurranno un'altra. Quindi è ovvio che il nostro obiettivo è quello di ridurre le tasse locali, ci mancherebbe. Però oggi dirlo e affermarlo senza aver messo le mani sui conti di Roma che peraltro sappiamo essere già molto, molto delicati a mio avviso è una... Si rischia di dire un'esattezza. Si rischia di dire un'inesattezza e fare promesse elettorali. Diciamo che abbassare le tasse è chiaramente una moneta di scambio che viene utilizzata prima di tutte le elezioni da partiti e da persone evidentemente spregiudicate. Avvocato, lei da consigliere comunale ha partecipato in maniera attiva le sedute del Consiglio dell'Aula Giulio Cesare sullo stadio della Roma. È stato un tema che è uno dei temi al centro di questa campagna elettorale. Le chiedo di spiegare ai nostri ascoltatori perché il Movimento 5 Stelle ha votato contro lo stadio della Roma a Tordivalle e qual è la sua posizione, ribadirlo ancora una volta. Ma all'epoca abbiamo votato no perché dai documenti in nostro possesso risultava chiaro che l'operazione stadio era in realtà un'operazione di speculazione edilizia. Lo stadio costituiva appena il 14% di un business park da un milione di metri cubi che peraltro non rispettava né i canoni di legge, quelli previsti dalla legge di stabilità del 2014, né le norme del piano regolatore. Quindi violazioni normative, violazioni del regolamento e in più quindi non si riscontravano questi elementi di pubblica utilità, soprattutto del business park. Adesso sembra che il progetto esecutivo non sia ancora integralmente stato depositato da Mr. Pallotta, quindi vedremo che cosa succede nel momento in cui depositerà gli ulteriori documenti. Si è stato modificato oppure... Esatto, noi questo l'abbiamo sempre detto e occorre ripetere. Però siete favorevoli per lo stadio? Siamo assolutamente favorevoli allo stadio, sia della Roma che della Lazio. Assolutamente, sono due grandissime squadre che meritano di avere uno stadio di proprietà. Questo non è in discussione, ma chiediamo assolutamente il rispetto della legge come lo chiediamo in ogni cosa, il rispetto della legge e delle norme. Abbiamo terminato. Sì, direttore, abbiamo terminato. Ringraziamo Virginia Raggi, l'avvocato di Virginia Raggi e ovviamente facciamo a lei, come abbiamo fatto a tutti, i migliori in bocca al lupo. Per la città di Roma, perché Roma ha bisogno di un'amministrazione, ha bisogno soprattutto di far battere ancora il cuore ai cittadini, perché veramente girare per Roma è difficile. Noi ci vogliamo provare veramente con tutto il cuore. Grazie, un grazie da Marco Fabriani, grazie a Lino Santarelli e grazie a Virginia Raggi, candidata a sindaco del Movimento 5 Stelle della Roma.